eccoci qua non è un video serio di quelli che trattano temi esagerati o faccio un po d'ordine se non faccio brutta figura il tema è quello di lorenzo in ducati che quando l'ho letto insomma è una cosa che non sarebbe neanche degna di spiegazione ma in realtà parla come il solito del lavoro di media la storia di lorenzo ducati è veramente una balla colossale sembra io sentito anche responsabile progetto moto gp paolo ciabatti per altri motivi chiaramente perché sicuramente non lo chiamo per questo e che mi ha detto ora sarei anche felice che fosse vero ma è una cosa a cui noi non abbiamo neanche lontanamente mai pensato cioè una notizia assolutamente priva di senza perché siamo ovviamente concentrati su un altro fronte è arrivato da linea ha inserito alcune idee sue su una moto che non aveva fatto lui e quindi è chiaro che la prima cosa che il tuo primo desiderio è quello di sapere se quello che praticamente hai suggerito ai tuoi nuovi dottori di lavoro funziona quindi poi traranno le dovute conclusioni pensare in un momento come questo che a prendere lorenzo a prendere quell'altro a fare del mercato così è un problema che non ci siamo posti ci credo personalmente per quello che tutti quelli un po più attenti pensano di sapere di lorenzo lorenzo ovviamente molto stuzzicato dal fatto di poter un giorno fare le cose che ha fatto valentino riuscendoci no però come riconosciuto dalla stessa ducati non è questo il momento lorenzo potrebbe essere attratto da ducati ma non in questo momento qui secondo ducati il momento della eventuale competitività arriva arriverà probabilmente a metà di questa stagione quindi a parte insomma le fonti che hanno anche hanno parlato hanno credibilità zero in spagna e sono totalmente inesistenti in italia ma questo è un problema di media e anche i grossi siti famosi che da trent'anni sono sul web così dicono anche se insomma il web non ha neanche non ha neanche trent'anni internet come lo conosciamo noi pur di scrivere qualcosa scriverebbero di tutto quindi la ducati cerca competitività la troverà a metà stagione ovviamente fino a fine stagione si terrerà i suoi piloti che sono i piloti giusti per ducati sono piloti veloci ma che non sono costretti a vincere un mondiale e quindi fino a fine stagione ci sarà dovizioso e in ducati ufficialmente ancora non hanno pensato a chi prendere forse nel 2015 quando la ducati sarà competitiva potranno anche rivolgersi a qualcuno tipo lorenzo o marquez che sono i due più importanti a meno che non ne venga fuori qualcun altro quest'anno che ne so brad che ne so così non saranno ancora neanche pronti a proporsi a un pilota così che ovviamente vuole vincere o averne comunque le possibilità quindi di sicuro ducati non vuole prendere un altro super mega big e bruciarlo bruciandosi quindi questa è una puttanata lato ducati lato lorenzo neanche a dirlo lorenzo sta per iniziare una nuova stagione con una con un'azienda molto difficilmente lui o il suo entourage possono aver parlato di interesse a correre con un'altra azienda ancora avendo un compagno di squadra così forte come valentino e scalpitante che non vede l'ora di prendersi l'eventuale rivincita quindi lorenzo non può aver detto una roba del genere neanche su entourage a meno che non ci sia della follia dietro il problema qual è il problema è che si va dietro a tutto e si discute di tutto anche delle cose di cui non bisogna assolutamente discutere un po come i giornali verissimo chi questi qui da parrucchiere e da ombrellone il problema che non siamo né dal parrucchiere e né davanti a un ombrellone e però in media hanno voglia di parlare lo stesso perché io parlo di questa cosa perché in realtà questo è un mezzo video che doveva far parte di un altro tema un po più serio ma lo butto lì così tanto è gratis e non mi costa niente dire un'altra volta che il motociclismo non ha bisogno di professionisti se i professionisti sono questi cioè è anche giusto che ci sia una differenza fra un dilettante e un professionista sia nell'approccio della qualità del lavoro ma anche nel fatto che un professionista vive del suo lavoro mentre un dilettante vive di altro e poi fa anche questo lavoro qui come accade al sottoscritto che per fortuna per cui per fortuna mister helmet è la terza cosa la quarta cosa la cosa del tempo libero però il fatto che tu sia professionista e debba vivere necessariamente di una cosa non significa che tu debba dare impasto ai tuoi lettori delle stupidaggini perché altrimenti la tua vita si spegne professionalmente e commercialmente parlando se non scrivi per forza qualcosa bisogna riflettere anche sul professorismo a tutti i costi che trasforma nella necessità della diciamo così del piattume di quello del momento della cronaca i professionisti indilettanti allo sbaraglio poi ci si riduce a fare a chiedere elemosina e offerte